Viviamo un momento storico segnato da sfide difficili, lo sappiamo. Il mondo è scosso dalla crisi provocata dalla pandemia del Covid-19 che mette in evidenza ancora di più un'altra sfida globale, la crisi socioambientale. Questo ci pone tutti di fronte alla necessità di una scelta. La scelta fra che cosa conta e che cosa non conta. La scelta fra il continuare a ignorare le sofferenze dei più poveri e a maltrattare la nostra casa comune, la terra, o impegnarci ad ogni livello per trasformare il nostro modo di agire. Ciascuna, ciascuno di noi, in quanto individui e membri di gruppi, famiglie, comunità di fede, imprese, associazioni, istituzioni, e può offrire un contributo significativo.